Il giorno 20 aprile 2012, ad est, Padova, presso l'Accademia dell'Artigianato, si svolgerà la conferenza internazionale finale del progetto Prometheus, cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma Intelligent Energy Europe. Il Centro regionale per la cooperazione artigiana, il Craca, ha condotto questa iniziativa che ha coinvolto partner autorevoli di diversi paesi europei, quali Francia, Spagna, Austria, Svezia e molti altri. Studi, confronti di buone pratiche, predisposizione di linee guida, ma soprattutto esperienze e progetti pilota realizzati sul campo. Questi sono stati gli ingredienti che hanno caratterizzato Prometheus, con la finalità di offrire un'opportunità e un sostegno alle imprese artigiane della filiera dell'edilizia impegnate nei settori dell'efficienza energetica, dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, contribuendo al miglioramento dell'organizzazione delle stesse attraverso reti o cluster, per consolidare la presenza sul mercato, rafforzare la fiducia del consumatore attraverso servizi di qualità e favorire, infine, un'ampia diffusione di sistemi energetici efficienti a piccola scala. L'Unione Provinciale Artigiani ha sviluppato uno specifico progetto pilota, mettendo a disposizione le sue risorse professionali e coinvolgendo imprese artigiane padovane della filiera dell'edilizia, che hanno realizzato un percorso di vera e propria aggregazione per fare business insieme, studiando un modello organizzativo più competitivo. Le aziende in questione hanno recentemente sottoscritto un protocollo di collaborazione. Le difficoltà del settore, afferma Antonio Morello Padovano, presidente del Craca, impongono un'inversione di tendenza. Una via d'uscita può essere rappresentata dalle cosiddette greenhouse e dalle ristrutturazioni edilizie realizzate con tecniche e tecnologie ispirate alla riduzione del consumo energetico degli edifici. Nel convegno che si terrà ad este daremo conto delle esperienze che abbiamo condotto proprio in questa direzione. Il convegno, che prenderà avvio alle ore 9.30, vedrà gli interventi di autorevoli esperti e anche internazionali. In particolare, prosegue Antonio Morello, segnalo la partecipazione di Maurizio Melis, attento giornalista scientifico, profondo conoscitore delle ultime tecnologie per il risparmio e l'efficienza energetica. Voce di diverse trasmissioni di scienza in onda su Radio 24, fra le quali Mr. Kilowatt e Smart Cities, e poi la presenza di Riccardo Viaggi, segretario generale degli European Builders' Confederation, la confederazione europea degli artigiani e delle piccole e medie imprese, che rappresenta proprio gli artigiani e le piccole e medie imprese edili a Bruxelles. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito del progetto www.prometheus.iee.eu e www.craca.it.